Ciao a tutti, oggi parleremo del brano Rose Viola di Gaemon. Prima di parlare del brano vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube che è in descrizione, trovate il link per scaricare lo spartito mp3 della canzone. Il brano non ha particolari difficoltà, ci sono alcune cose a cui prestare attenzione, ma non è difficile. La prima cosa che mi sento di dirvi è che è una batteria campionata, che noi rifaremo dal vivo con una batteria acustica. State attenti all'indicazione di shuffle, che è scritta in cima, riferita ai sedicesimi, quindi tutti i sedicesimi non sono da pensare secondo questa griglia, ma secondo questa. Quindi, nel groove originale, vi parlo già dal groove di battuta 12, 13, 14, 15, così capite meglio. Ve lo faccio lento, così capite ancora di più. Quel sedicesimo segnato sul secondo movimento è da sciaffolare, vuol dire che è da pensare su questa griglia. Questo fa in modo che la cassa sia la sensazione, cioè che è una sensazione reale, che sia leggermente spostata, ritardata, quindi adesso ve lo faccio sentire. Normale sarebbe così. Normale sarebbe così. Sciaffolata invece, quel sedicesimo suona. Ok, quindi attenzione, questo lo faccio sentire più lento. L'ultima cosa a cui fare attenzione è che all'inizio il rullante sul quarto movimento non c'è, quindi noi siamo abituati sempre a metterlo. Ma quest'ultimo rullante non c'è, quindi le prime 13 battute suoneranno così. Quindi anche la legatura che vedete dell'ottavo col quarto successivo sul quarto movimento è una legatura fatta sulla cassa, quindi suona solo l'ottavo elevare del terzo movimento. Adesso ve lo faccio sentire. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ma sta nel tocco delle parti non carezzerò le blanche e le spine sarò fragile e non vio ti riuscirò a me e non vio e non vio i Noliettoria.... ... che non ha detto che parla... ... che non mi credo che non ti... ... che non mi riede... ... che non mi credo... ... che ne vede una malla... ... che non mi credo che è la speranza... ... che non mi credo è... ... che non mi senti lasciando... Grazie a tutti. Grazie a tutti.